non ti preoccupare mi dà c'è una regola interna in questo gruppo se mi accompagna qualcuno io ho parlato a scopo eh? non ho già scritto chi mi accompagna le alcune domande io ho parlato a 40 è tuo 40 io ho sicuro pensa te hai comprato uno con la mia macchina non sei 40 non mi chiedi un numero uno è stata a casa DITIVO NUNA 4 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40 Ah nooo Ma lei mi sapevamo fuori lui a fare Ehi Tocca a te E poi lui noi lo sappiamo Naturalmente parla ai楽hi Ma neanche lo sappiamo Ma andai tranquillo Io ho sento Ho fatto un tier Chi? Chiara? Quarto, quatto E' credibile come mi taken face Tutti sei enti Cesta di casa, tier Cesta di casa ma non gli occhiali! zitto!